dimagrire è difficile anzi impossibile io non ce la faccio mangio benissimo e ingrasso ma non faccio niente di male perché non dimagrisco sono le lamentele più diffuse quando si cerca di dimagrire secondo la rivista obesity invece sono lamentele e oggi vediamo insieme un trucco della naturopatia confermato dalla scienza per dimagrire il 10 per cento più velocemente con 10 minuti al giorno senza stress se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video e alla fine del video vi spiego anche un segreto indispensabile senza cui il trucco non funziona quindi guardate il video fino in fondo lo studio americano citato su obesity è stato condotto dalle università del vermont south carolina e memphis tennessee nella ricerca sono stati considerati i risultati ottenuto da un gruppo di circa 120 persone in un periodo di 24 settimane e sorpresa chi ha seguito il trucco di oggi con più assiduità è dimagrito il 10 per cento in più e il trucco in questione è il diario alimentare tutto qui il dottor squalozzi dice che non serve niente può sembrare una banalità ma non lo è affatto lo dice la scienza e come naturopata io l'ho visto accadere centinaia di volte perché l'ho consigliato anch'io tante volte in 30 anni di esperienza tenere un diario alimentare è un'esperienza che ti trasforma a un potere incredibile tante persone si sono potute rendere conto degli squilibri nella loro alimentazione vedendoli sul diario alimentare e li hanno corretti ovviamente come tutto funziona se fatto nel modo giusto e adesso vi svelo il segreto dei ricercatori ma che poi anche il mio intanto se trovate utili i miei video fate così iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi con un piccolo contributo mensile dedicato al canale così mi aiutate a diffondere la salute naturale attivamente oggi voglio ringraziare tra gli altri graziano marzia lara argiola ahimè sauro e rose che si sono abbonati grazie un salutone un bacio detto questo il diario va tenuto ogni giorno e il segreto per farlo in pochi minuti è questo scrivete tutto quello che mangiate e che bevete subito appena fatto sul blocchetto che avete sempre con voi o ancora meglio sul telefonino così non ci sono scuse che non avete carta e penna disponibili e poi rileggete alla fine della giornata quello che avete ingurgitato solo grazie a questo trucco i partecipanti alla ricerca i più assidui hanno perso il 10 per cento di peso in più rispetto a chi ha tralasciato e trascurato il diario alimentare personalmente consiglio il diario alimentare da anni ne ho parlato già in diversi video chi mi segue lo sa io lo faccio scrivere anche per tenere monitorato lo stato di benessere e il collegamento diretto tra cibo e salute se volete un coaching personalizzato per sapere come fare contattatemi dal link in descrizione per chi mi guarda dal telefonino bisogna cliccare sulla freccetta di fianco al titolo se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao